Nell'ambito del progetto Life Muscle, coordinato da Rega Ambiente e diretto alla riduzione dell'impatto ambientale delle retine utilizzate per l'allevamento dei mitili, il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma si occuperà della caratterizzazione fisica dei materiali, conseguenti le retine, prima e dopo il recupero e il riciclo. In particolare, il nostro gruppo di ricerca di tanni si occupa di materiali polimerici, verificherà il possibile riutilizzo del materiale plastico costituente le retine nell'ottica di un'economia circolare. Inoltre, per migliorare la sostenibilità dell'allevamento dei mitili, il materiale plastico verrà sostituito con materiale biodegradabile e lo stesso tipo di caratterizzazione verrà effettuato sulle retine biopolimero ai fini di un loro riciclo meccanico. Grazie a tutti!